Andri Antonio Acquaviva è il vincitore della borsa di studio dottor Giuseppe Marano conferita dalla Fondazione Porta di Sant'Andrea che quest'anno compie 30 anni e che è nata proprio per ricordare Marano scomparso il 17 settembre del 1989. Oltre al conferimento della borsa di studio si è parlato del futuro della sanità nell'abbat e quindi del nuovo ospedale di Andria. Le interviste. Dottor Acquaviva quest'anno lei ha ricevuto la borsa di studio dottor Giuseppe Marano è un conferimento positivo ma che carica di responsabilità il suo futuro. Assolutamente sì anche perché sono appena agli inizi della mia carriera mi sono appena laureato e mi sto specializzando al momento in medicina interna e mi sento davvero onorato di ricevere questa onorificenza da parte dell'ordine dei medici della BAT perché penso anche in parte di meritarmelo considerando tutto l'insieme di esami che ho fatto è stata una carriera seppur breve abbastanza intensa e è anche una ricompensa di tutti i sacrifici che ho dovuto passare insomma durante questi anni universitari. Qual è stato il suo percorso? Dove si è formato? E che intende fare ora se intende spostarsi, andare all'estero o rimanere in Italia? Allora io mi sono laureato all'università di Bari mi sono laureato invece che dei classici sei anni mi sono laureato in cinque anni e mezzo ottenendo così una laurea anticipata per il primo anno in cui si poteva appunto fare ora mi sto specializzando in medicina interna Novara in Piemonte al momento penso prima a finire insomma la specializzazione dopodiché vedrò le mie intenzioni sono quelle di rimanere in Italia però voglio decidere un po' se rimanere lì o tornare a casa. Sono trent'anni che si è costituita la fondazione nata nel 1989 per ricordare la figura di questo concittadino così illustre e quindi quest'anno con la ricorrenza del premio assegnato al laureato in medicina più meritevole del 2018 che è il dottor Acquaviva festeggiamo e celebriamo anche il trentesimo anniversario della fondazione con una riflessione su un tema di straordinaria importanza e attualità perché l'ospedale, il futuro ospedale di Andria sicuramente sarà una delle risorse del territorio più importanti in un momento che come tutti sappiamo è particolarmente difficile. Siamo alle battute diciamo finali del percorso di attribuzione dei finanziamenti abbiamo già avviato e concluso l'istruttoria per aprire la gara per la progettazione dopodiché conclusa e consegnata la progettazione esecutiva si parte poi con gli espropri e con l'avvio invece della gara per la realizzazione quindi diciamo che l'iter che abbiamo concluso in questo periodo è sicuramente importantissimo e fondamentale perché in questo momento abbiamo geolocalizzato l'area ma siamo riusciti a blindare il finanziamento da parte dello Stato con l'articolo 20. Di questo finanziamento una parte è stata già stralciata e autorizzata la spesa da parte della regione Puglia abbiamo a disposizione circa 15 milioni di euro già per avviare la progettazione e gli espropri quindi siamo praticamente al nastro di partenza per avviare in autonomia nostra aziendale tutte le fasi prodromiche per l'individuazione del contraente che poi sarà chiamato a realizzare questa bell'opera un ospedale di secondo livello tecnologicamente molto avanzato.